Shepard, non... non credo che ti ricordi di me. Sono Shiala. Ci siamo conosciuti su Feros, durante l'attacco dei Geth. Saren mi aveva fatta diventare una schiava del Thorian, ma poi tu l'hai distrutto e mi hai salvata. Ho promesso di aiutare la ricostruzione di Zeus Hop. Sono qui su Illium proprio per questo. Come va, Zeus Hop? Abbiamo ricostruito molto, recuperando addirittura alcuni materiali utili dalla nave Geth che avevi distrutto. I ricercatori della Exogeni sono stati richiamati al quartier generale, insieme a ciò che restava del Thorian. La Exogeni è tornata a tormentare i coloni, oppure il Thorian è riuscito in qualche modo a sopravvivere? No, la Exogeni ha supportato molto, Zeus Hop. Sembrano tenere alla nostra sopravvivenza. E il Thorian è morto. Capisco i tuoi timori dopo tutta la fatica che hai fatto per ucciderlo. Dopo la nostra avventura su Feros, la mia missione qui su Illium potrebbe sembrarti una vera inezia. Posso fare qualcosa per aiutarti? Lo apprezzerei molto. Le mie capacità diplomatiche hanno raggiunto il limite e preferirei non combinare disastri. Alcuni coloni hanno avuto problemi di salute dovuti al controllo del Thorian. Abbiamo ingaggiato un gruppo di studio coloniale per fare degli esami clinici. Purtroppo il contratto medico sembra permettere all'azienda di usare procedure invasive senza il nostro consenso. Ecco perché sono qui. Un momento, Shala. Tu eri verde quando il Thorian ti aveva trasformata in un clone. Ma in realtà eri blu come tutte le Asari. Ricordi quei problemi di salute legati al controllo del Thorian? Questo è il mio. Pochi mesi dopo la distruzione del Thorian, la mia pelle ha iniziato a cambiare colore e le mie abilità biotiche sono instabili. Sogno anche a occhi aperti. Rivivo quei momenti con il Thorian. È sconcertante. Parlami del contratto che avete firmato per quegli esami. La Baria Frontiers era interessata al nostro problema. Si sono offerti di eseguire gli esami clinici e somministrare le terapie praticamente gratis. Era troppo bello per essere vero. Ma eravamo disperati. Pare abbiamo accettato una clausola scritta in minuscolo che gli consente di usare procedure invasive e intendono far valere questo diritto. Possono davvero costringervi a farlo? No, ma possono dichiararci inadempienti in modo da farci pagare l'intera somma che avremmo dovuto versare normalmente. Zeus Hope inizia solo ora a riprendersi. Non potremmo mai permettercelo, Shepard. Che tipo di problemi di salute hanno avuto i coloni? Emicranie o spasmi muscolari simili a quelli che si avevano sotto il controllo del Thorian. Talvolta i coloni, quando si trovano vicini, possono addirittura provare le stesse sensazioni come il caldo o il dolore. Forse nel loro organismo sono rimaste tracce delle spore parassitarie del Thorian. Ora capisci perché volevamo studiarli e curarli. Parlerò con quel gruppo di studio. Grazie, Shepard. La rappresentante della Baria Frontiers è al corrente del problema. Ho visto con chi parlavi, umano. Sei qui per lamentarti del contratto medico che hanno firmato quei coloni di Feroz. Ti consiglio di andartene. La tua vita è già abbastanza breve. Non sprecarla dandomi fastidio. Perché tenete tanto a questi esami clinici? Sono così importanti per voi. Non è questo il punto. È stato firmato un contratto legale e vincolante. Tutto il resto è secondario. Voi alieni, umani, Salarian, Turian, arrivate sul nostro pianeta e avete il coraggio di lamentarvi delle nostre leggi. La galassia sarebbe un posto migliore se il brodo primordiale fossero uscite solo le asari. Forse potremmo eseguire degli esami diversi, qualcosa che soddisfi entrambe le parti. Se i coloni non intendevano rispettare i propri oneri contrattuali, non avrebbero dovuto firmare. Nulla mi costringe ad accogliere le loro richieste. Saresti così rigida nel rispettare i termini contrattuali se quelli fossero coloni asari? Se fossero asari dovrebbero vedersela con i problemi causati dalle altre specie. Proprio come la mia partner, morta durante l'insurrezione dei Geth contro i Quarian. O come le mie figlie, morte sulla cittadella durante l'attacco dei Geth. Una lavorava all'ambasciata, l'altra era al servizio della consorte. Voglio essere molto chiara con te, umano. Gli alieni non saranno mai i miei alleati. La loro unica utilità è fornirmi dati medici. Cosa ci faceva la tua partner sul mondo dei Quarian? Studiava i Quarian. Non la tecnologia, ma la loro musica. Amava le loro forme d'arte. Le trovava interessanti. Forse le mie figlie avevano preso da lei. Entrambe amavano parlare con le persone, conoscere nuove culture. Erano di sicuro delle splendide persone. Una grossa perdita per la galassia. Senza dubbio. Credi che loro approverebbero quello che fai? Io non... non... Io... manderò un contratto rivisto. Niente più usani, niente penali. Nella galassia c'è già abbastanza dolore. Non voglio crearne altro. Hai preso le mappe galattiche? Sì, ma ho dovuto trattare con Erinia. Ce l'hai fatta. Ho appena ricevuto il contratto rivisto. Grazie, Shepard. Hai salvato di nuovo Zusop. Non avrei mai pensato di... Deve sempre andare così. Sono i problemi del passato che continuano a perseguitarmi. Non finirà mai. Hai la possibilità di fare la differenza, Shala. Non tutti ce l'hanno. Hai ragione. Salvando la colonia ci hai dato un'opportunità. Non posso deluderli. Non posso. Grazie per quello che hai fatto qui, Shepard. Continuerò a fare del mio meglio. Forse quando non dovrò più badare alla colonia... E tu avrai smesso di fare... quello che fai... Grazie a tutti. Grazie a tutti.